Non è stata solo l'Allianza Udas a dominare nel weekend di basket, anche la cestistica Sansevero e la Diamond Poggia sono reduci da incontri e vittorie importanti. I gialloneri di Piero Cohen che lottano per la promozione in Serie A2 hanno vinto in gara 1 dei quarti di finale contro l'amatori Pescara con il monteggio di 74-42. La gara era molto temuta dall'ambiente giallonero soprattutto perché gli abruzzesi erano reduci da 16 vittorie delle 17 conseguite in regular season. La gara dominata bene sia in attacco che in difesa è stata fondamentale. Il ritorno in gara 2 si giocherà martedì 17 maggio sempre al Pala Castellana. Invece per il torneo interzonale promozione Serie B la Diamond Poggia continua la sua corsa. I ragazzi di Christiane Vigilante hanno battuto al Pala Sport Dauno Reggio Canape con il punteggio di 96-79 al termine di un match eliminato solamente nelle prime due frazioni. Poi i Downi hanno preso il largo e portato a termine questa vittoria importante che le consente di mantenere il secondo posto in classifica. Il ritorno a campi invertiti tra sei giorni. Mimmo Siena, Speciale News.